Ho il petto domenica Il mio nome è Martucci Non mi sono presentato l'altro video Sto iniziando una serie di vlog E' vero Vorrei arrivare a 100 iscritti su questo canale Vedete se voglio appena continuare a fare i video Se vi piace Se non ti piace per niente Arrivando due mesi Non arrivo a 100 iscritti Allora smetto di fare Tillo a fare le mie musiche Che mi dite Devo far impiare che tutti di là dormono Che praticamente è bello Pronto Via 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 che sento io in ritardo Voglio praticamente la stessa strada di giri Però un po' diverso Prima ho tappato il microfono È proprio un asinello Adesso spero che mi sentite bene Vi avevo proprio il dito sopra Anche perché la mia è una telecamera piccola E non so come tenere in forma sicura Già che è così nuova e ancora assicurata Guarda che bello questo giardino Peccato che sono già arrivato in macchina Oggi vi spiegherò meglio Oggi vi spiegherò meglio Perché ieri è stata una giornata solo di lavoro Per farvi vedere Beh Macchinina macchinina Urrooo Sono il primo a arrivare Stranamente Io sono sempre l'ultimo Ups Caduto Vado a prendere la chiave Di aprire cancello Chiave in mano Già se c'è più la di aprire cancello Così si fa Cambierò la velocità della luce Non è arrivato nessuno Approfitto Per dire che sono stato il primo Quando è arrivato al lavoro Serve un po' di stracci per asciugare Perché è tutto bagnato Bello Vediamo se c'è un po' di stracci Adesso Va bene solo questi Vediamo Per sicurezza Continuano a cadere Si va a casa a prepararsi Perché tra poco Si va al lago Fa un baino ad infrescare Questo sole sta uccidendo Avanti E' un forno questa macchina Partenza E via Come stai? La mia prima volta al lago Come il mio bambino Eccolo lì Lì Ciao La telecamera Stai dormendo Stiamo qui prendendo E non piangono Come al lago Ciao Ciao Stai tuttando di là Ciao Allora cosa prende lei Cibo A me prende un gelato Un gelato Non mangio Ha mangiato prima Ma lei ha fame? Dai confermi Si ma ha mangiato prima Senza invitarmi Cosa ha mangiato? Ah a casa mia? Ah a casa tua Ma che? Secondo me ha fame di cibo E tu ricompri il gelato Ah Gli viene più voglia di mangiare Vedrà questo video E dopo dirà Denis quanto sei bastardo? Almeno lo prendo Un gelato Si sa se ha la sete E il caldo E strabicola Vediamo se si attacca Non si vede neanche Prendi questo Nooo Cosa prendi allora? Lo mangi tutto quello? Non si vede neanche Non si vede neanche Ma io Che c'è il maionese C'è il ketchup qua Maionese qua Che no? Mangia solo un panino con maionese Non si vede Solo maionese? No Mangia sempre panino Che qualcosa E il maionese Ah ok Maionese Non è per bene Non è completo Posso? Nutella buet Nutella Nutella Guarda quanto è postato Solo 37 Abbiamo preso tutto il negozio Ci hanno fatto pagare solo 37 euro Si dice Famiamo Vi affamati Ecco Non mi è venito Fanno la rosa Fanno la rosa Ecco Fanno la rosa Stanno cercando anche delle commesse Quindi se vuoi lavorare Vai Cerchi lavoro Sono il tuo agent Il tuo agente Che è trovato lavoro Se ne sei il bingo Lo metti qua dentro O dietro Via 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 Di veloci Sfamiamo gli affamati 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 Distrutte adesso Fate subito dormire Sfamiamo gli affamati Dico qualcosa Allora non venite al lago Perché l'acqua è sporca Ultime considerazioni Ho sonno Bimbo dorme Ultime considerazioni Ho sonno Sfamiamo le fanno Sollo Ho sonno E' caldo Con il chico E' caldo E' caldo E' caldo E' caldo E' caldo Non mi chiamo. It's the dream. che giornata impegnativa e lavora lago questa casa e riposino non ce la faccio più e dalle 5 e mezza che sono sveglia adesso che ora sono appena appena